Sì, questo mi dispiace per loro perché veramente è un fallo clamuroso che lui Muriel mi fa a me e per questo lui ha fatto il ventaglio e ha calciato con ventaglio perché io mi ho fermato un po' ho pensato che lui, l'arbitro, aveva visto questo fallo e si è una partita perché dopo un po' di nervosismo perché Udinese sta giocando una grande gara, una grande partita e per questo penso che dobbiamo stare attenti con l'arbitro perché questo decide una partita Hai avuto modo di parlare anche con Luis su questo episodio o è scivolato poi così nel nulla? Tutti sappiamo che uno in campo è sempre tratta di tenere il ventaglio quando siamo in campo siamo avversari tutti, lui è una grande persona, lui stava giochendo per questa squadra penso che non è colpa di lui, è colpa dell'arbitro che non sta guardando la partita è una partita decisiva come questa È la prima sconfitta da quando è arrivato De Canio però comunque in campo la prestazione, l'atteggiamento tu come lo valuti? Penso che Udinese ha fatto una grande gara Delle prime minuti abbiamo andato a gradire a loro erano una squadra compatta, una squadra che intentavamo fare il gol prima noi magari si entra uno di questi gol la partita era altra però comunque noi sappiamo che abbiamo fatto una grande partita dobbiamo migliorare qualcosa però alla fine sappiamo che possiamo migliorare e andiamo adesso a nostra casa a lavorare per la prossima partita Anche perché arriva anche Verona un'ultima considerazione che è salvo ma non sta regalando niente a nessuno sta vincendo sempre Sì, il calcio italiano è fino alla fine sappiamo che nessuno regala niente noi lavoriamo per noi per fare il meglio adesso questa settimana andiamo a lavorare a correre tutti i sbagliati che abbiamo fatto e sappiamo che piano piano stiamo guadagnando fiducia con questo mister magari in nostra casa con i nostri tifosi andiamo meglio grazie a tutti